Ragazzi, questa non è una reaction della nuova canzone di Valerio Mazzei, non è una reaction, ma è semplicemente, andrò a parlare della furbizia di questi ragazzi, perché sono molto furbi, io ieri li ho insultati nei commenti, ma io li ho insultati come, ovviamente come sfogo, perché io faccio canzoni e non faccio mai successo, mi danno sempre dislike, poi arrivano sti idioti che sono molto più famosi e fanno le canzoni per bimbi minchia, che poi pure trappo, ma dopo ne andiamo a parlare. Perché non sono d'accordo, fanno queste canzoni e hanno subito successo, 100.000 like, 500.000 visualizzazioni, avete capito. Ragazzi, allora, ebbè io sono una nullità, non dovrei parlare in confronto a questi grandi colossi, però, ragazzi, innanzitutto, perché una canzoncina trap? Perché? Perché? Cioè, voi avete la possibilità di fare la canzoncina pop, la canzoncina cretina, di Apey Contro Te, qualsiasi canzoncina del cazzo, voi fate la canzoncina trap, per i bambini di 8 e 12 anni, ma siete delle, cioè, delle stupidi. Da una parte, ok, ci sta, perché ormai le bambine e i bambini di 8 anni che sentono sfere basse, sentono gali, sentono questa gentaglia qua. C'è gentaglia, questi qua che comunque hanno grosso utilizzo di autotune, e poi comunque anche questi qui vale, vabbè, non voglio neanche nominarlo, ma zè e abbo, vette l'autotune, ovviamente. Ma poi, senza dubbio, non varrebbe un cazzo, secondo me. Però, ragazzi, da una parte io li voglio lodare, li voglio lodare, perché sono molto, molto intelligenti, perché comunque a fare contenuti da idioti, si ha il miglior pubblico. Infatti, si ha il pubblico dei bambini, i bambini sono il pubblico migliore, secondo me, perché non ti tradiscono mai, ti guardano tutti i video, ti mettono like a tutti i video, e quando fai una canzone te la guardano 30.000 volte, quindi ti fanno fare, tipo, un botto di visualizzazioni in poco tempo, ed è molto, molto furbo. Anche fare un merchandising, ma poi loro fanno il minimo sforzo e il massimo risultato. Se fanno, ad esempio, uno scherzo fake, tutti ci credono, tutti questi bimbi ci credono nei commenti, ci credono, mettono like, è una stronzata, però ci credono. E hanno il massimo sforzo, con il minimo heading, con il minimo, cioè, con il minimo pensato, perché tanto hanno 8 e 12 anni, non capiscono niente, ok? Poi il merchandising, che costa 40, 50 euro, le magliette 30, 25, non lo so adesso, il merchandising, fanno bene a farlo, fanno benissimo a farlo, ok? Sì, fanno benissimo, perché sono furbi, perché i bimbi di oggi, che chiedono ai genitori, chiedono ai genitori, papà, mamma, posso avere, posso comprare sta tuta, sta felpa, no? Sta maglietta. Sì, i genitori dicono sì, perché sono stupidi, e quindi i bimbi hanno, diciamo, il merchandising di questi qui, e questi qui si faranno il 90%, l'85% di ricavato, perché comunque ci devono pagare qualcosa sull'IVA, sulle tasse. E dunque, ragazzi, complimenti, perché vi farete centinaia e centinaia di migliaia di euro, non facendo una minchia, facendovi, manco una sega, porca madonna, avete capito? Sì, ragazzi, sì. Sì, e poi che dire, cioè io, i genitori proprio comprano tutto, perché comunque ho visto dei ragazzi con delle scarpe Nike, off-white, nella mia città, Jordan, blu, cioè blu, erano azzurrine, che costano sui 1600-1800 euro. Io non so se sono vere, ma se sono vere, cioè i genitori, proprio qua, un po' decoccio, eh, però vorrei averle anch'io quelle scarpe, perché sono sicuramente una delle mie preferite. E vabbè, raga, faccio i complimenti a sti, a sti babbei, però comunque veramente da apprezzare, comunque, come, diciamo, con un minimo sforzo si può fare veramente tanti, tanti soldi, io gli faccio veramente tanti complimenti. E ci diciamo.